vedete che i sassi grossi vanno giù da soli, senza problemi, così andiamo a pulire bene, così, piano piano, non ci perdiamo niente e qui c'è un po' di duro lavoro allora, bisogna cercare di fare questo movimento il rotatorio, e poi una volta, ogni tanto, quando il materiale più grosso in sopra si va da un colpettino, così, piccoli colpettini, tipo piccole onde piccole onde che vanno a pulire il materiale ok, adesso ci torniamo giù perché ho già visto che si sta spostando un po' di oro ok mi raccomando, fate sempre questo dove non c'è corrente sono rischiate di tornare giù potete anche sbattere così, non c'è problema così adesso di nuovo, onde, onde su onde, onde su onde piano, vedete, piano perché stiamo già sulla seconda riga, quindi è meglio tornare giù questa è una abatea abbastanza professional cioè da esperto diciamo quindi non dico di essere esperto io però così ora vedete che i sassi grossi vanno giù da sole senza problemi così picchiettino piano piano così 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 state sempre attenti di guardare dove si ferma il vostro oro eh così ancora uno ok torniamo giù e dovremo trovare dovremo trovare eh magnetite e quello che c'è voilà è 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 Grazie a tutti.